Ok, non guardare il radiocomando. Stam! Andiamo su. Tu puoi abbassare solo un pochino. Guarda il drone. Non guarda se è dentro le dita e il cervello. Va bene così. Leggera rotazione a sinistra. Sinistra rotazione, non rolio io. No, qua piano. Se no quando arrivi là ti abiti da solo. Allora, partiamo piano piano e facciamo la forma del tavolo. Ok, quadrato ad angoli raggiati in percorrenza. Quindi non ci fermiamo. Ok? Vai. Guarda il drone. Tu guarda mentre guarda. Il drone devi guardare. Dovrai. Uno. Devi tutto e sei fatto. E fatti. Piano. Non ti blocco. No, non devi bloccarlo. Ricordi. Arrivi lì. Inizia a ruotare. Ruota. No. Ok, guarda. Mi mostra. Ok, c'è la forma a destra. Però non vuole. Vabbè, facciamo prima così. Avanti e ancora un po'. Alla. No, ancora un po' a destra. Qui. Piano con quella rotazione. Vabbè. Sennò, rischiamo di fare che ce lo troviamo sempre avvitato. Ok, un po' questo non ci serve. Pip, pip. Piano. Arrivi a tre. Ti fermi. Voilà. Molto bene. Ruoti. Destra è sempre orario. Ti ricordi quel famoso discorso del motore che viene da una parte all'altra. Guarda il drone. Ti fermi lì. Ok. Ruoti ancora. Guarda il famoso motore che arriva. Troppo. Ok. E riparti con l'inizio. Ti voglio un filo di rognino. Ti fermi il secondo. E ruoti. Mentre a destra. Ok. Un filo di rognino. E' un po' questo. E' un po'. Mi fanno la bocca pensando a... Sento la mia. Dai, dai. No, no, vai, dai. Dai, un pochino là. Almeno fino alzine. Ok. Rotazione. Ti hanno la rotazione. Voilà. Cavalli tranquilli con il drone che va. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie. 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 di noi e vedi che se no hai degli ostacoli la ci sei lo porti verso il frattempo scendi punta verso il 4 il dirillo 4 fermo lì ok adesso picchini in avanti e continui la discesa sempre piano e sempre controllato e in una situazione di panico paura ora io potrei essere il bambino antipatico che prende questo stick ma come fa a stare giù questo stick e il drone per terra e tu non lo sai ok andiamo sull'uno e partiamo da lì allora partiamo fai l'esercizio non mollare gli stick è tuo il drone non è mio ovviamente sempre piano sempre controllato non abbiamo la fretta di andare hai girato un po' prima ma va bene fermo lì e continui bravissimo cerca di occuparlo tutto il campo ok quindi non avere paura di andare verso dove perché il problema è che tu dici no se io vado oltre cosa succede bravissimo ottima vedi che c'è un controllo molto buono può fare un pochino e si va in partita hai sempre il tempo ad aumentare la velocità e anche l'ultimo lo fai uguale bene adesso ti fermi lì bravo questo è stato un pochino adesso vieni dietro un metro vedi dove c'è l'erba che si muove ok cerca di avere la pazienza di arrivare giustino in fondo di non aver paura di ruotare al limite andiamo lungo ok guarda il drone non guardare me vai piano piano eh bravo che l'hai preso tutto questa volta ti ricordo la bollante un pochino più di rotazione ok benissimo attento e vedi che sei andato un po' lungo perché no no